ciao a tutti da jgr studios il nostro canale dedicato alle lezioni recensioni e tutorial sull'audio recording non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati ad un anno di distanza arriva la versione 4.5 di studio one professional artist e prime punto di forza di presonus e quindi di studio one è il forum utenti dove gli utenti nel mondo possono aggiungere richieste di futures e addirittura votarle per poter far sì che nelle prossime release vengano esaudite non a caso infatti tutti gli aggiornamenti di studio one rispecchiano molto fedelmente le richieste degli utenti troviamo ad esempio la richiesta di supporto multi core per il multi instruments l'integrazione della inversione di fase sui fader integrazione native instruments integrazione di esportazione video e tanto tanto altro e nella versione 4.5 di studio one troviamo ben più di 70 aggiornamenti eccoci giunti alla major release di studio one 4.5 con questo aggiornamento studio one diventa diretto concorrente della maggior parte delle do in commercio includendo non soltanto le caratteristiche pro che gli utenti provenienti da altre do necessitano e cosa più importante il team di sviluppo segue le richieste degli utenti del forum per aggiungere sempre più caratteristiche proprio a chi ne necessita rimanendo leader nel settore delle do scritte per gli utenti studio one 4.5 alza ancora l'asticella delle prestazioni migliorando non soltanto con l'aggiunta delle futures di questa release ma soprattutto rendendo multi core i plugin instruments in particolar modo maitai e multi instruments incrementando le prestazioni e le performance del processore di un 50 per cento andiamo a vedere tutte le novità che sono state apportate partendo dalle più evidenti che fanno riferimento al mixer il mixer o console di studio one 4.5 aggiunge alcune potenzialità molto richieste dagli utenti negli ultimi due anni alcune più importanti altre ridondanti ma che aiutano nel workflow generale del mix attraverso le opzioni infatti possiamo scegliere dimostrare ora i controlli di input assegnazione gruppo e note i canali del mixer come vediamo sono stati aggiornati aggiungendo il controllo di gain pre channel per abbassare o alzare il gain prima dell'ingresso nei plugin in insert ottimo per gestire il gain staging in fase di mix soprattutto quando vengono importati gli stems da altre piattaforme sempre in questa posizione è stato aggiunto il pulsante di fase o face shift per girare la fase sia su i canali destro e sinistro stereo sia nel centro quando la traccia in mono questo ci evita di dover inserire il plugin di mix tool come primo della lista degli insert ora questa funzione è integrata invece nel canale direttamente il controllo di gain sui canali inoltre influenza i plugin dedicati al mix effects come il console shaper o soft tube tape track questa opzione va attivata attraverso le opzioni appunto del mixer come abbiamo visto anche il meter channel ha avuto un upgrade il meter livelli in ogni canale può essere settato ora sulle due modalità peak e peak rms come accadeva prima solo per il master e quindi poter usare due tipi di scale per ogni canale indipendentemente questa opzione è accessibile dal pulsante destro puntato sul meter inoltre i meter possono essere ora utilizzati anche in prefader sempre da questo menu a tendina altra grandissima future aggiunta è l'opzione gruppo o group management in mixer è ora possibile gestire i gruppi dei canali nella sezione mixer separatamente da come avviene nell'arranger ogni gruppo può avere un nome un colore e uno shortcut per essere acceso e spento facciamo un esempio selezioniamo la cassa e raggruppiamola raggruppa tracce selezionate questo momento possiamo creare il gruppo cassa e trovarlo qui nel nostro elenco infatti ora sotto il canale è apparso il gruppo cassa possiamo eventualmente colorarlo nei gruppi possono essere selezionati il volume il panel mute solo gli insert e i sense premendo con il tasto destro del mouse sul nome del gruppo creiamo un secondo gruppo con i tom chiameremo tom e attraverso il pulsante gruppi che troviamo ora qui sotto possiamo scegliere quale dei due gruppi selezionare velocemente accenderli o spegnerli vediamo che la funzione gruppo viene anche rappresentata qui sopra al meter quindi sappiamo che questa traccia fa parte di un gruppo possiamo invertirli spostarli e scegliere con il tasto destro che cosa rendere automatizzabile all'interno del gruppo e quindi raggruppare soltanto alcune funzioni come ad esempio la modifica il volume l'insert send record monitor e mute solo possiamo rinominarlo o cancellarlo una volta colorato il gruppo troviamo la stessa colorazione qui all'interno dei canali con l'aggiunta di queste future il mixer è ora più customizzabile in console option menu è stato ridisegnato ed ora possibile accedere e spegnere le diverse parti e salvare tutto con la song stessa infatti ogni configurazione è ora salvabile con il file song direttamente un'altra importantissima future fa riferimento al routing cliccando infatti sulla io routing abbiamo un nuovo tipo di routing quindi disegno del routing all'interno del studio one e che finalmente è possibile salvare nelle song e importarlo nei nostri nuovi progetti grazie alla funzione importa ed esporta una volta salvato il nostro setup in studio ad esempio potremmo fare esporta e salvarlo con la configurazione io config come ho fatto io jgr studios io config che può essere ricaricata all'interno delle song che arrivano da altri studi di registrazione evitandoci quindi di riscrivere il routing ogni volta anche questa una delle future più richieste sul forum di studio one inoltre i canali possono essere configurati negli ingressi e nelle uscite più velocemente in maniera ascendente selezionando più canali con il pulsante shift e selezionando gli ingressi o le uscite per esempio ingressi assegna in ordine crescente o le uscite assegna in ordine crescente in questo modo tutte le uscite vengono assegnate velocemente in ordine crescente in base impostazioni della io un altro super upgrade è quello del reverse sidechain una volta aperto un compressore ad esempio all'interno di un canale di studio one dovevamo selezionare il pulsante sidechain e poi nei send selezionare il sidechain ora invece è possibile selezionare direttamente il feed quindi la sorgente da questo menu al lato in questo modo il sidechain viene automaticamente aggiunto al canale a cui fa riferimento un plugin che contiene al suo interno un sidechain collegato ad esempio ad un'altra traccia potrà essere copiato trasportando anche l'assegnazione del sidechain questo è un sistema fantastico per poter avere la connessione sidechain direttamente nel plugin copiato in un altro canale in questa nuova versione possiamo nella sezione export esportare direttamente il file in formato mono singolo canale con l'aggiunta appunto dell'opzione mono anche il menu dei plugin ha subito un cambiamento possiamo oltre che scegliere il tipo di flat cartella fornitore o tipo di plugin potremo ora attraverso le preferenze console plugin menu scegliere la versione basic o base per poter vedere un sistema di menu di plugin molto simile a quello che poi spesso ritroviamo sulle altre do per chi proviene ad esempio da cubase o da logic audio perdiamo la funzione di search ma possiamo mantenere la funzione preferiti e recente per tornare sui nostri passi dovremo semplicemente tornare nelle preferenze e risistemare il plugin menu su avanzato sempre in tema di plugin e di preset in questo caso abbiamo una nuovissima funzione che è quella di poter salvare il nostro preset direttamente in una sotto cartella che abbiamo già creato mentre prima dovevamo indicare scrivendola il tipo di cartella questa funzione è estremamente utile per poter creare le cartelle di preset in base o all'artista o al tipo di mix che stiamo preparando a livello di gestione hardware abbiamo un nuovissimo plugin manager che troviamo sotto la finestra vista infatti plugin manager possiamo ora gestire tutti i plugin in fase di caricamento ed escluderne altri qualora avessimo dei problemi di compatibilità possiamo sceglierli attraverso il fornitore quindi escludere tutti quelli per esempio di apple audi feed che non verranno più caricati al momento abbiamo un nome filtro per poter cercare il plugin che possa infastidirci oppure scegliere di non caricare le versioni audio unit rewire o vst 3 sotto abbiamo quelli che sono stati inseriti nella blacklist potremo rimuoverlo o resettare tutta la blacklist verrà nuovamente ricaricato in fase di load di studio one aggiorna per poter ricaricare tutti i plugin e validare quelli nuovi tolti dalla blacklist anche in questo caso il menu in alto ci fa camminare per tipo fornitore e cartella import ed export sono stati anch'essi aggiornati possiamo ora infatti in fase di export scegliere i nuovi formati flac e ocg oltre ai formati apple m4a a cui possiamo aggiungere la funzione di halak o scegliere il normale acc l'esportazione mp3 prevede ora un bitrate variabile in grado quindi di aumentare la qualità e la risoluzione del nostro file mp3 altra grandissima innovazione è il nuovo sistema di gestione del video che ora permette l'esportazione anche del formato video con l'audio embedded estratta la traccia audio del nostro video possiamo ora riesportare tutto il video con il nuovo audio direttamente da esporta video troveremo qui la possibilità di rinominare il video scegliere il formato tra quicktime mpeg e m4v modificare eventualmente il codec ed esportare il video per intero fra i loop file marker o fra i marker selezionati start e end ovviamente l'audio può essere esportato anche in formato mono e con tutti gli effetti bypassati una funzione richiestissima da tutti gli utenti di studio one pro a livello di workflow sono state aggiunte delle migliorie partiamo innanzitutto dalla macro toolbar che ora diventa staccabile quindi è possibile spostarla in diversi punti oltre al fatto di poter avere delle macro diverse per ogni tipo di finestra come ad esempio quella contenuta all'interno degli editor anch'essi staccabili e riposizionabili potremo così creare un sistema di macro a finestre più semplice da gestire con la toolbar possiamo migliorare il workflow in maniera decisiva per anni alcuni power user hanno creato le loro macro e configurazioni macro toolbar condividendole con altri utenti con studio one 4.5 non sarà più possibile condividere una configurazione global ma l'arrangiamento gli editor audio e music avranno la loro macro toolbar dedicata che potrà essere configurata separatamente gli utenti potranno quindi ora creare le loro macro toolbar personalizzate per ognuna delle tre principali aree di lavoro queste toolbar hanno delle pagine multiple e possono essere esportate singolarmente per gli altri utenti nella toolbar possiamo ora creare dei bottoni personalizzati anche con immagini png aggiungendo un nuovo pulsante al menu o nuovo pulsante in questo modo il nostro nuovo pulsante sarà configurabile come icona selezionando un'immagine ad esempio il nostro logo e dandogli una funzione particolare assegnandola ad una macro già esistente oppure una nuova che creeremo appositamente ovviamente tutti i pulsanti e i sottomenu possono essere aggiunti e modificati la performance della cpu è stata significamente migliorata in studio one 4.5 soprattutto quando vengono utilizzati virtual instruments e i multi instruments arrivando fino ad un risparmio del 70 per cento comparato con le versioni precedenti rispetto gli instruments di terze parti il miglioramento è di circa il 50 per cento se prendiamo in esame contact presence xt ha un incremento dell'uso del multicore molto evidente le forme d'onda audio sono state rese meno ruvide soprattutto nella fase di zoom per un controllo visivo più accurato per attivarlo scegliamo draw smooth waveform nelle preferenze avanzate in italiano disegna forme d'onda regolari zoomando infatti ora avremo un immagine della forma d'onda più dettagliata e naturale altra funzione molto interessante è il lock event ossia possiamo ad esempio tagliare una nostra traccia e loccarla quindi fermarla sull'arrangiamento evitando quindi spostamenti casuali clicchiamo con il tasto destro del mouse e scegliamo time lock in questo modo la traccia non potrà essere più modificata sul tempo oppure modifica lock cioè non potremo più modificarla o editarla è stato aggiunto inoltre il recall marker come per i gruppi ogni numero di marker potrà essere richiamato utilizzando degli shortcuts premendo shift più il numero sul tastierino potremo muoverci all'interno dei marker è stata aggiunta la funzione di one step audio loop export per esportare gli audio loop è ora possibile farlo con un singolo passaggio dall'arrangiamento al browser tenendo premuto alt mentre si esporta vediamo infatti tutte le caratteristiche del loop che stiamo esportando un nuovo snap option è stato inserito e chiamato snap to zero crossing con questa opzione abilitata il cursore o la selezione verrà agganciata allo zero crossing più prossimo della forma audio la sezione midi ha subito un fortissimo upgrade una velocizzazione nelle operazioni di workflow con l'aggiunta di funzioni e shortcuts ed alcune macro nuove per esplorare queste nuove future dobbiamo ora entrare nel menu actions o azioni dell'editor midi dove troviamo applica scala o applica tonalità il free speech nella sezione process possiamo estendere note fino alla fine della parte ripetere le note sino alla fine della parte quindi con lo stesso groove come in questo caso utilissimo quando dobbiamo copiare velocemente delle parti di sintetizzatori o dei sequencer replica specularmente ci permette di replicare specularmente in orizzontale le note mantenendo un pitch centrale di un certo tipo in questo modo vengono ad esempio girate al contrario aggiungere delle note casuali ad esempio quindi creare una sorta di pitch range originale utilizzare solo il pitch originale o personalizzare il nostro pitch di riferimento anche la velocity può essere forzata su una certa casualità come anche la lunghezza della nota note casuali applica tonalità vengono in questo modo alterate casualmente abbiamo inoltre assottiglia note per poter stringere le note sulla griglia in modo più rapido e ripeti con note questo modo possiamo scegliere di riempire tutta la parte con alcuni tipi di note e in base ad un certo tipo di lunghezza li sperimenteremo più avanti in un tutorial apposito anche le funzioni di quantize come per le macro sono ora indipendenti per i diversi tipi di editor sia per l'editor musicale sia per la ranger track quindi avremo la possibilità di scollegare i sistemi di quantizzazione come vediamo all'interno dei singoli editor il chord selector offre ora un audition mode con il chord audition mode attivato cliccando su un accordo verranno suonate le note attraverso il suono associato può essere ovviamente anche ad ascoltata tutta la traccia degli accordi attivando il play track infatti ora nella traccia accordi noi possiamo addirittura associare uno strumento di quelli contenuti negli instruments grazie per aver seguito questa breve panoramica sulle novità di studio one 4.5 le analizzeremo approfonditamente durante queste settimane all'interno di questo canale quindi non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra lezioni più approfondite faranno parte invece di un corso professionale su studio one che verrà presto distribuito ciao a presto ciao a presto Grazie.